Uno, due, tre, te lo! Ehi, tu ti sei mossa per caso? Ehi, ma, scusa, ma tu sei rimasto così veramente? Attacco di spada e mi hai conto il cattivo di Squid Game? Attenzione! Uno, due, tre, te lo! Ma tu che poze fai ogni po'? Ma tu che gioco stai facendo tu, scusami? Non lo so! Ragazzi, ho un piano. Se noi uniamo tutte le nostre forze, possiamo sconfiggere il cattivo e vincere noi. Ok! Ah, è la visione! Attenzione, ma che sta succedendo? No! Ciao, Luigi! Siamo venuti in questo nuovo... Video! Allora, oggi, ragazzi, un video speciale. Come vedete, insieme a Hillary ci sono tutti questi nostri amici. Salutate tutti! Ciao! Allora, cosa andremo a fare oggi? Aspettate un attimo che ho visto... C'è qualcuno che mi preoccupa qui dietro. Oh, ma... Ehi, leva questa cosa. Come vedete, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo Squid Game. Nella vita reale. Voi lo conoscete? Sì! Benvenuto! Corri un po' di più! E riprendilo! Perciò ci metti un'ora! Adesso sta correndo per lui! Ciao, Bing! Ciao! Quindi, praticamente, le regole quali sono? Il nostro Bing bambola di Squid Game conterà fino a tre. Chi si muove, ovviamente, verrà eliminato dalla guardia che lo porterà via. Ma abbiamo un ospite speciale. Non avevamo la bambola di Squid Game, ma abbiamo di meglio. Abbiamo un mostro che vi ipnotizza al 3... Uno, due, tre! Benvenuto! Siamo pronti per iniziare questa sfida epica, perché un video così non si è mai visto su YouTube. Quanti siamo? Circa 700. 500? 500 mila siamo! Quanti? Circa 100 mila! Siamo almeno due! Secondo voi quanti siamo? Due! Secondo lui siamo un due? Venti! Secondo lei è un venti? Quanti? Cento, perché nel salone di Squid Game ci stanno cento letti! Allora siamo cento anche noi, giusto? Abbiamo anche oggi, purtroppo, qui con noi le zie di Ilari, cioè... Nicole e Roma. Beh, vabbè, potranno rimanere a casa. Comunque, siamo pronti, ragazzi... Che c'ho? Che paura, pensò che era un bagarozzo. Comunque, allora, diciamo, possiamo iniziare. Siete pronti? Sì! Avete paura? No! Siete cari? Sì! Siamo pronti per iniziare questo Squid Game della vita reale, come mai è stato fatto al mondo. Ovviamente, prima di iniziare il video, non andate a fare i nostri amici a casa per iniziare il video. Iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivatela! Cosa per iniziare? Sì! Quindi, tutti quanti partirete da una riga bianca. La nostra bambola di Squid Game si girerà, cioè il nostro Bing, al momento in cui lui si gira... La nostra bambola assassina di Bing si girerà. In quel momento voi dovete rimanere immobili e chi si muove verrà eliminato e portato via dal cattivo. Allora, vediamo qui com'è la situazione. Francesco. Ok, ferma. Tu come ti chiami? Francesco. Francesco, ti sei mosso? No. Ma che cavolo Tu, Filippo Filippo Ehi, qua, qualcuno si è mosso o sbaglio? Vediamo un po' Tu ti sei mossa per caso? Sbaglio o ti sei mossa? Eh, però Ehi Ma che facciai tu? Ti sei bloccata così? Leviamo una calcoletta, vediamo un po' se si muove No, non si è mossa, bravissimo Ehi, ma Scusa, ma tu Sei rimasto così veramente? Quanto pensi di rimanere ancora così? Eh, non lo so Ce la fai? Ecco qua, il primo eliminato Ehi, ehi, ehi C'è poco da ridere Perché il prossimo Potresti essere tu No, io no Io sono fermissimo 1, 2, 3, 3 No Eliminato Vediamo se qualcuno si è mosso Immobile Ehi, Spider-Man Eliminato Spider-Man Spider-Man vuol dire qualcosa? Eh, no Sicuro? Attacco di Spider-Man contro il cattivo di Squid Game Attenzione Applauso a Spider-Man 1, 2, 3, 4 Ma io non ho messo nemmeno una gamba Che cosa? Non ho messo Aspetta, chi ha eliminato? Roma, è eliminata? Sì È eliminata la Roma? Ma non si è proprio mossa lei? Va bene, va bene, è eliminata Ciao, ciao Tu sei il primo? Sì Però hai parlato e ti sei mosso No, scherzo No Allora 1, 2, 3, 3 E' eliminato Come ti chiami? Edoardo Edoardo, ti hanno eliminato Edoardo No Edoardo, vuoi dare un calcio Al brutto di Squid Game? Oh, giusto Sì, una vendetta Una piccola, una piccola vendetta 1, 2, 3, 3 Vediamo Vediamo Se qualcuno si sta muovendo Lui no Una mascherina Qui ti ha eliminato No Vabbè È eliminato Quanto è crudele questo cattivo Ma non c'è neanche mossa Niente, lui non risponde Ammazza che sei Però giù in fondo Aspetta Tu stai sempre partecipando Allora Adesso noi di nascosto Mentre tutti sono girati Avanza un pochettino Avanza, avanza, avanza Vai ancora un po' più avanti Ok, ancora, ancora, ancora Avanza, avanza Non lo dire a nessuno però, eh Ok Tutto bene? Sì Ok Ok Ehi, scusami, tu? Che cosa hai detto? Giù piano Ma ti sei mosso per parlare? No Ah, mi sembrava Vediamo chi eliminerà il nostro cattivo Nessuno? Bravissimi Ok, meno male Ah, ah Ti sei auto eliminato Hai detto basta Voglio andare No Sei mosso Ti sei mosso? Sei stato eliminato anche tu Uno, due, tre Ma tu sei prima Come ti chiami tu che sei prima? Che sei per vincere il gioco? Come ti chiami? Beatrice 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 non ti muovere Tieni meno Tieni meno Siete pronti? Più piano Da L'eliminazione del gruppo Uno, due, tre No Però hai combattuto Hai combattuto È andata bene È andata bene Ragazzi Volete 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 dire qualcosa Al cattivo Sì L'odio Cosa? L'odio Tu cosa vuoi dirgli? Niente? Tu vuoi dirgli qualcosa? Cattivo 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 Molto cattivo Cattivissimo Cattivo Ma non si è mosso Sì Sì È un complotto No Andiamo indietro Andiamo a vedere indietro No Andiamo Qui Spider Ma che stai facendo tu? È mosso del corrido Per me è tu adesso E non è mia cugina Chi fa cuori No ma lei è stata bravissima Lui è bravissimo Vediamo un po' Chi c'è qui dietro Se qualcuno si sta muovendo Aspettate Ma scusami Ma Ma tu che Nicole Ma Nicole Cosa stai facendo tu? Ma sei ultima? Elicia Elicia Nicole ma sei altissima Sei più alta di tutti Ma sei ancora qui Elicia Sei ultima Scusa cattivo Ma guardare un attimo lì Che sta passando un asino Guarda lì in alto Corri corri Vieni avanti Veloce 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 Ok No dicevo tutto a posto Ok 1 2 3 Velo Ma tu che posti fai ogni volta? Non lo so Che gioco stai facendo tu? Scusami Ma è lo stesso gioco che fanno gli altri? Sì Ok C'è un eliminato Cioè dai Sta portando via Era appena rientrato Infatti vai traccinalo fuori Andiamo Un atto eliminato Era un altro gioco Allora Ma è vero Allora In questo gruppo ho visto qualcuno muovere Ma scusami una cosa Ma tu perché stai dettando le regole del gioco? Ma perché ho uscito Ma tu sei stato eliminato o sbaglio? Eh sì però Ma tu zitto zitto È eliminato di nuovo Si è eliminato Ok Un'altra volta è eliminato Ma è lui? Sono fermissimo Non ho fatto niente Via È eliminato Ma non ho fatto niente È eliminato Un, due, tre, te la Un, due, tre, te la È eliminato? Un, due, tre, te la Oh no Eliminati Proprio Regola No Lei no Lei è stata bravissima Quindi abbiamo tre eliminati Tutto bene? Sì Va bene dai Comunque si è arrivata quasi alla fine del gioco Non è andata malissimo Un, due, tre, te la Non ci credo Ha vinto Allora abbiamo il vincitore Che hai tu? Un dente e mi balla E quindi? Balla E quindi? Non puoi giocare? Che dici? Che cosa balla? Il pop? L'iscio? Che cosa fa? Ragazzi ho un piano Se noi uniamo tutte le nostre forze Possiamo sconfiggere il cattivo E vincere noi Ok Scusa come facciamo allora? Allora uniamo tutte le nostre forze Due da dietro Due da davanti Due da destra Due da sinistra E poi lo buttiamo tutti a terra E vinciamo Sì 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 Come ci mettiamo? Allora Tu e tu andate dietro No no non ora Non ora Non ora Tu e tu Andate davanti Tu e tu andiamo dietro l'albero Ok Noi due L'attacchiamo da davanti Io ti rubo la pistola E tu devi stare con loro Ma io non per qui nessuno Ma dove saranno Non lo so perché si sono allontane tutti quanti Forse perché sono stati eliminati Non lo devi mangiare Ok Sei pronti Sei pronti Pronti Siamo prontissimi Voglio abbatterlo Eh cattivo ma ti dispiace che hanno vinto? No mamma mia Vito Non ci vediamo Eh attenzione Attenzione ma che sta succedendo? No Ma state un Tutti sul cattivo Scusa ma che è successo? Ti è caduto un dente Facciamo vedere il bochino Ma il dente dove sta? Eh sta là Oh facciamo un applauso al dente che è caduto Bravo il dente Ma è stato il cattivo a levarti il dente? Allora Eh? No Quindi abbiamo perso un dente così durante il video? Eh Incredibile Ok ma scusate Il cattivo l'abbiamo eliminato Ok Ma durante il video qualcuno è mancato Ma ilarie dove era andata? Dov'eri tu scusami eh Al parco Al parco? Anche io con i miei Cioè anche tu eri al parco? E pure io E sei arrivata solo Solo dopo la fine del video Comunque amici se anche oggi vi state divertiti Dicevo Se anche oggi vi state divertiti Cosa dovranno fare i nostri amici? Iscrivervi 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 E Iscrivervi E Rilagire Negli aggiornamenti Bravissimo Vorrebbe fare lo youtuber Quindi amici Mi raccomando Lasciate un sacco di commenti E ci vediamo domani Con un altro nuovissimo video A domani Ciao Grazie a tutti!